Ciao ragazzi, sono Caro De Lucis e benvenuti a questo nuovo video. Sono a Monaco per il Top Marks e pomeriggio non sappiamo cosa fare e allora giriamo sulla macchina del nostro amico Marchettino che ha appena fatto il wrap, ha installato lo scarico come avete visto nel mio video e adesso andiamo a fare un giro a fare un po' gli ignoranti. Andiamo! Giretto tranquillo no Marco? Normale! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Che bestia questo GTR vero? È veramente un missile! Ringraziamo il nostro amico Marchettino e con voi vi vedo al prossimo video. State bene ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!